Arrigo Sacchi L'uscita dell'ex CT azzurro comunque rimane e con grande probabilità verrà sanzionata dall'UEFA come già successo per il presidente federale Tavecchio, anche lui vittima della lingua italiana. Il presidente della Federazione Mondiale del Calcio, Joseph Blatter, è rimasto scioccato dalle parole di Sacchi. L'orgoglio e la dignità non dipendono dal colore della pelle, ha detto il massimo dirigente. Dietro le parole di Arrigo Sacchi c'è però la denuncia al calcio italiano su come vengono curati i vivai, cresciuti talenti italiani e importati dall'estero le giovani promesse. Il percorso sembra molto meno costoso di quello fatto tutto in casa e soprattutto sembra che riesca a far guadagnare più soldi ai procuratori. È un vero mercato, è una pratica molto diffusa a tutti i livelli nel calcio italiano, ma per rimanere sulla partita che ha provocato la sconsiderata frase di Sacchi dobbiamo prendere come riferimento la lista dei giocatori iscritti dall'Inter al torneo di Viareggio e quelli schierati in campo nella finale. Su 24 giocatori soltanto 11 sono italiani, meno della metà, 7 ragazzi su 24 invece provengono da paesi africani. Nella formazione schierata in campo invece soltanto 6 italiani, 4 di colore e 1 rumeno, numeri che non hanno bisogno di commento. La federazione dovrebbe tutelare la crescita dei giocatori italiani, qualunque colore di pelle abbiano, ma appare evidente che abbia la meglio la logica del mercato. Poi si scopre che il miglior giocatore del torneo di Viareggio è stato proprio un italiano, di Manerbio. Classe 97, 1,92 m, il 21 maggio compirà 17 anni. Si chiama Federico Bonazzoli, è in prestito dalla Sampdoria all'Inter, ma in Serie A ed Europa League ha già debuttato.